Sono soddisfatto dell'andamento del ritiro, il quadro generale è positivissimo, i giocatori hanno svolto interamente il programma di allenamento senza intoppi, né a livello organizzativo né a livello fisico, quindi questo vuol dire che si è lavorato ottimamente. Ora ci riposiamo due giorni per poi tornare a Catanzaro e cominciare a preparare l'inizio delle partite in maniera più intensa in vista dell'inizio del campionato.